Perchè secondo me da qui volendo si arriva sopra lì C'è una volta che c'è qui Perchè questo è il clio della caratteristica Perchè lo parla Sì, no, a quilo fa tutto il sasso Sì, no Sì, no, ho rischiato un po' perché sono sceso proprio Sì, no, ho rischiato un po' perché sono sceso Sì, no, ho rischiato un po' perché sono sceso Sì, no, ho rischiato un po' perché sono sceso No, ho rischiato un po' perché sono sceso Ma che brava Brava mia È proprio una trialista anche lei Sì, no, ho rischiato un po' 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 Poi i doppi che piacciono a te Sì, no, ho rischiato un po' 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 Sì, e poi dà il colpezzo a salire senza farlo di colpino Sì, fa anche appoggi E poi... Farlo in due tempi, magari arrivano i sciacalli qua Sono usciti a fare un giro qui sotto Grazie.